Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. L'Italia continua ad essere ai margini di una vasta area anticiclonica che dalla penisola iberica si estende fin sulla Gran Bretagna, sull'Europa centrale e parte dei paesi baltici. Sul Mediterraneo insistono correnti fresche nord orientali e di conseguenza continua anche l'instabilità pomeridiana sui rilievi appenninici. Nel weekend la situazione dovrebbe leggermente migliorare per una maggiore invadenza dell'anticiclone e l'instabilità pomeridiana dovrebbe attenuarsi ulteriormente. In Abruzzo sarà un venerdì simile a quanto già visto oggi con il sole protagonista nelle prime ore del mattino. Sui rilievi si formeranno molto presto cumulonembi e nel pomeriggio potranno verificarsi temporali sui monti in occasionale estensione fin sulle zone predimontane e collinari. Tempo soleggiato e sereno invece sulle zone costiere. La ventilazione continuerà ad insistere debolmente da nord ed il mare risulterà quasi calmo. Nessuna novità per le temperature, minime della notte comprese tra 11 e 19 gradi e massime di domani tra 23 e 27 gradi. Una buona serata a tutti!